Patrick Stubing e Susan Karolowski pensate che vivono all'Ipsia e hanno avuto la bellezza di quattro figli in 13 anni che si conoscono. Diciamo che i due hanno addirittura legami a livello parentelare, di parentela piuttosto stretta e non si sono conosciuti alla nascita. Patrick infatti venne affidato ad un orfanotrofio perché il padre lo avrebbe maltrattato e soltanto alla morte la madre avrebbe incontrato la dolce Susan con cui si è verificato un colpo di fulmine, quindi una love story, una storia d'amore. In pratica da come si legge sul web è un caso di incesto in piena regola dove fratello e sorella, Susan e sorella di Patrick, e Patrick è fratello di Susan, hanno avuto ben quattro figli in quattro anni. Eppure sono 13 gli anni che si conoscono, vi ricordo, da come si legge proprio sul web. La vicenda ci arriva dalla Germania, ripeto, Patrick ha 36 anni, Susan ha 29, vivono all'Ipsia, quattro figli in 13 anni. Hanno avuto, hanno legami di parentela stretti, ma non si sono conosciuti alla nascita. Quindi diciamo che pure se è una fratello e sorella, hanno avuto due hitter biografici, due vite distaccate. Seppure, ripeto, da come si legge sul web, sono fratello e sorella effettivamente parlando. Detto questo, grazie a tutti, io vi ho detto di YouTube, il video termine è qua, da Nara2DN è tutto, ciao a tutti.